Perfetto, ready, set, go, come esci? Subito questa scuola. Poi l'altra fase importante è l'atteraggio. Io all'ultima manovra ti puro sulle gambe, sulle gambe e alzo le gambe un po' in squadra. In avanti? Sì, in avanti così, bravissimo. Non così, eh? E' aperta, aperta. Un po' di stessa, sì, un po' di stessa. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. Come ti chiami? A Sivilliano. Da dove vieni? Da Frascani. E che stamattina com'è qua? Perché mia moglie per il mio compleanno ha deciso di regalare un bel ancio col paragadure. Non lo so perché l'ha fatta. Grandioso. Allora, io salvo Francesco. Ciao Francesco. Ci rivediamo in aria, mi raccomando, guardami, sorridi e vola insieme a me, così si divertiamo. E lui volerà vicino a noi. A dopo, ciao. Ciao, ciao. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno, saluta papi. Do va papà, vola? Do va papà, volo? Apprecciamolo. Ciao papà, vola, papà, vola, dai. Ciao papà, vola, ciao amore, ciao amore. Faccia come te, faccia fa te. Ciao papi, ciao papi, ciao. Siamo pronti, andiamo a lì, Marco. Apprecciamolo tu. Ciao, un bacio. Bello. Ciao, quelli. Ciao, a dopo. Ciao. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti